La famiglia di Bruno del Negro, 81enne di Trani, trovato senza vita il 30 luglio 2022 in una grotta di Castrovalva, chiede alla procura della Repubblica di Sulmona il via libera per trasferire la salma nel cimitero del comune pugliese. L'anziano, che era stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, era stato sepolto lo scorso anno nel cimitero di Anversa degli Abruzzi, in attesa dell'esame del DNA. Lo scorso 9 maggio la procura ha chiuso le indagini preliminari e ha confermato le accuse per i tre figli e per la nuora, finiti sotto la lente della giustizia per soppressione di cadavere, truffa ai danni dell'Inps, utilizzo in debito della carta di credito. Il mio assistito non aveva rapporti con il padre da tempo, ne era venuto a conoscenza della sua morte, tanto che viene accusato solo dell'utilizzo della carta di credito, ricorda Giancarlo Falco, avvocato di uno dei figli dell'anziano. Il legale annuncia che non appena il PM presenterà le richieste al giudice, noi torneremo a chiedere il trasferimento della Salma. Per il momento Bruno del Negro era stato sepolto nel cimitero di Anversa, addirittura come cadavere ignoto, perché per otto mesi era rimasto nella cella frigorifera dell'ospedale di Chieti, in attesa di tutti gli accertamenti, un vero e proprio giallo che era stato risorto dal nucleo operativo dei carabinieri attraverso le indagini.